ciao da francesco nano oggi ho deciso di registrare un brevissimo video messaggio per condividere con te e con tutti gli altri amici di scuola suono punto it una cosa che mi sta davvero a cuore probabilmente già saprai che esiste anche se in maniera un po nascosta l'accademia del mixaggio di scuola suono punto it che cos'è l'accademia del mixaggio di scuola suono è una community virtuale quindi una situazione online in cui i musicisti come te decidono di imparare a mixare in maniera professionale i propri brani quindi è un posto in cui attraverso del materiale didattico hai la possibilità di scoprire dei delle procedure potremmo dire anche dei trucchi segreti diciamo che è un linguaggio un po troppo da venditore ma diciamo sicuramente delle strategie utili e professionali per mixare in maniera diciamo al top i tuoi brani sfruttando i clagini il software che hai a disposizione ebbene che cosa è successo nell'accademia del mixaggio in questo periodo piccola precisazione l'accademia del mixaggio è aperta da pochissimo ed è ancora non è ancora stata aperta al pubblico mentre sto registrando questo video messaggio chi vi partecipa sono i vecchi allievi della mia scuola di recording portata avanti anche con il mitico gaetano cirillo che in questo momento proprio sta svolgendo il ruolo di tutor nell'accademia del mixaggio è lui che insegna a mixare ebbene questi vecchi allievi della scuola per corso per tecnico del suono insomma di scuola suono.com quindi il primo glorioso corso di scuola suono hanno avuto accesso in qualità di beta tester diciamo così di persone che provano il servizio all'accademia del mixaggio che è praticamente il nostro nuovo servizio il nuovo servizio a pagamento che scuola suono punto it ha deciso di erogare potremmo dire di di fornire ebbene che cosa è successo con questi allievi devi sapere che all'interno dell'accademia del mixaggio una volta ogni due mesi e questa è la prima volta che accade perché sono i primi due mesi di attività dell'accademia avviene che tutti i partecipanti possono gareggiare in un contest in una sfida all'ultimo mixaggio in pratica chi mixa meglio vince e che cosa vince vince sicuramente la gloria insomma di essere arrivato prima in questa sfida ma vince anche delle attrezzature messe a disposizione da scuola suono quindi è diciamo potremmo dire che è proprio un contest serio ebbene il primo contest dell'accademia del mixaggio dedicato quindi a solamente ai vecchi allievi ha avuto un basso tasso di iscrizione perché probabilmente era il primo contest c'era un po di timore un po po di paura è stato anche difficile mettere in piedi tutta la struttura collegata e connessa all'accademia del mixaggio pochi iscritti ma che hanno gareggiato veramente alla grande in particolare è successo in realtà un piccolo un piccolo problemino c'è stato un concorrente che nel forum dell'accademia si chiama pepito che ha presentato il proprio mixaggio all'interno del forum l'ha postato con alcuni minuti di ritardo rispetto alla scadenza prevista c'era una scadenza una data di scadenza era il 15 febbraio il 16 febbraio alle 00 45 pepito posta sul forum il suo mixaggio a quel punto io e gaetano ci siamo sentiti e abbiamo così abbiamo dovuto decidere che cosa fare accettiamo o non accettiamo questo questa prova di mixaggio di pepito può partecipare anche lui al contest ed eventualmente essere premiato oppure no ebbene abbiamo riflettuto sui pro e sui contro diciamo nel mantenerlo nell'escluderlo alla fine abbiamo deciso di sottoporre a tutti gli altri allievi la questione ebbene gli altri allievi hanno dato la loro opinione c'è chi chi ha scritto sì secondo me pepito per 45 minuti di ritardo dovrebbe poter partecipare perché si è impegnato ha creato il mixaggio ci ha messo del lavoro ha fatto anche un buon lavoro altri allievi invece hanno detto è no però si crea un precedente e di conseguenza in un prossimo contest qualsiasi altro che arrivi in ritardo con qualche minuto allora può essere comunque ammesso diciamo si crea un precedente per cui le regole vengono leggermente scavalcate ebbene la cosa che volevo condividere con te adesso a prescindere dal fatto che alla fine poi il forum si è espresso in maniera abbastanza precisa cioè escludiamo escludiamo pepito dalla gara gaetano non se l'è sentita comunque da non commentare il proprio il suo mix e quindi ha fatto un ottimo commento anche sul lavoro fatto da pepito gli ha spiegato quali erano secondo lui i punti forti del suo mix e quali invece sono stati gli errori punti su cui doveva sforzarsi un pochino e migliorare quindi non l'ha escluso dalla parte didattica però pepito alla fine non ha potuto partecipare alla gara vera e propria in sintesi la cosa che volevo condividerti è questa che all'interno del forum c'è stata comunque una grandissima sportività ad esempio gli altri partecipanti beh c'è stato un partecipante in particolare che ha detto ma io partecipo mi sentirei un po a disagio a dire no voglio escludere voglio escludere pepito dalla competizione perché mi avvantaggio io insomma anche i concorrenti non erano tanto quindi escluderne uno comunque già voleva dire avere più possibilità di vittorie in ogni caso il clima che si è creato attorno a questo piccolo problema è stato veramente di amicizia e di rispetto anche insomma tante volte io vedo nei forum che succede che i moderatori insomma chi partecipa di più al forum è molto aggressivo no cioè è molto è molto spinoso nei confronti di chi non rispetta perfettamente le regole ebbene qua c'è stata una piccola se vogliamo dire chiamarla così infrazione un piccolo problema ma non c'è stato quell'accanimento fastidioso quindi io in questa sede pubblica devo veramente ringraziare gli allievi che hanno partecipato a quella discussione il vincitore di questo contest è stato Luca Lazzaro che voglio ringraziare per la partecipazione e fargli pubblicamente i complimenti complimenti a tutti quelli che hanno partecipato grazie a tutti quelli che hanno postato anche nel forum la propria opinione vi saluto tutti quanti saluto sia gli allievi dell'accademia e con quelli magari c'è un'occasione in più di sentirsi all'interno del forum sia anche tutti gli altri amici di scuola suono.it che per il momento magari non sono ancora nostri allievi ma non è detto che un domani non lo possano diventare. Detto questo saluto tutti quanti grazie dell'attenzione ci sentiamo presto attraverso qualche email o qualche video messaggio. Ciao da Francesco Nano e alla prossima!